La Campania ha bisogno sicuramente di qualcosa di più, non è possibile, non è più consentito essere governati da uno sceriffo. I punti salienti del nostro programma sono l'antitesi del programma degli altri. Noi parliamo di sanità, parliamo di salute, parliamo di diritti, di trasporti, di infrastrutture. Napoli e la Campania hanno bisogno di un aeroporto intercontinentale per aumentare sicuramente il livello di attenzione internazionale sul sud ma su tutto il mezzogiorno. Rispetto a queste cose il terzo polo è in prima fila per le battaglie, per le grandi battaglie e soprattutto per le grandi questioni inerenti. La libertà di scelta vaccinale è una di queste, per i diritti, i diritti civili soprattutto.